Possagno è grave un 23enne di origine marocchina che stamattina ha riportato ustioni al volto, al torace, alle braccia a causa delle fiamme divampate nella sua abitazione in via Olivi. Pare che a provocare le lingue di fuoco sia stata una fuga di gas all'interno della casa. Sul posto i sanitari del suo emdic respano che hanno intubato il giovane e li trasportato in un primo momento causa nebbia all'ospedale di Treviso. Appena le condizioni meteo l'hanno concesso dal cafoncello è stato trasferito al centro grandi ustiorati di Padova.